La casa indiretta. La parola agli esperti. Tutto sulla casa. La casa indiretta. Un punto d'incontro per chiarire e risolvere qualunque problematica immobiliare. Ogni settimana a confronto ascoltatori, professionisti del settore e rappresentanti di categoria. Benvenuti amici, benvenuti alla casa indiretta. Il format di Rete 8 che vuole approfondire tutti gli aspetti inerenti, le costruzioni non solo della casa ma tutto quello che ruota intorno alla casa. Abbiamo come sempre con noi in collegamento Massimo Bortolotti. Buongiorno, ciao Massimo. Ciao Moreno, buongiorno a tutti. Dunque, dicevo questa trasmissione che vuole approfondire tutti i vari aspetti legati alle case vecchie, nuove, contratti, non contratti, agenti eccetera eccetera. Oggi intanto iniziamo, avevamo parlato l'altra volta di come fare una valutazione, insomma pian piano andiamo avanti. Oggi intanto iniziamo parlando di incarico? Sì, l'incarico è una formalità decisamente importante e necessaria affinché l'agente immobiliare col quale tu hai a che fare e che ti ha preventivamente fatto una valutazione, motivato la valutazione che tu condividi, di prendere in carico la vendita o la locazione di casa tua. Concentriamoci sulla vendita che ha la maggiore richiesta di spiegazione. Un incarico è formalmente un contratto fra io agente immobiliare e te padrone di casa ed è un contratto e una sinergia per arrivare alla conclusione della vendita e quindi io farò di tutto per trovare un acquirente alle condizioni migliori che è possibile di mercato per casa tua e tu dovrai consentirmi ovviamente di fare il mio mestiere. Quindi mi dovrai mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria, laddove questa documentazione mancasse ti dovrai operare per farlo o delegare un tecnico mio tramite o chi vuoi tu per reperirla affinché io possa proporre il tuo immobile in maniera completamente soddisfacente e trasparente al potenziale e qui rende. Un incarico è un incarico formale a mio parere necessario e non superabile, cioè non verbale, ma sempre a mio parere scritto che sia, lo divido ovviamente in esclusiva o non in esclusive, perché io devo avere l'autorizzazione tua, devo sapere di che cosa stiamo parlando e tu ovviamente hai tutto l'interesse per chi io faccia il miglior mestiere del mondo. Per cui non puoi dirmi la voce, nel nostro mercato va molto di moda, se le capita qualcuno lei me lo dica, ma qui non è che capita, non c'è che c'è la gente fuori con i biglietti che dice cerco un attico, ce ne hai uno, no ce ne ho due. Qui la gente te la devi cercare, devi avere dei contatti giusti, devi avere dei canali per cui, con cui e con i quali puoi cercare gli acquirenti, far vederla a casa, incontrarli in ufficio, proporgli le condizioni e cercare di arrivare a quella che è una prima proposta di acquisto che è l'atto che poi ci porterà alla eventuale compravendita della casa. Un incarico formalmente composto da tre grandi sezioni. Chi sei tu come padrone di casa? Io ho l'obbligo di verificare che tu sia il padrone di casa, quindi i tuoi documenti, insomma tutte le cose che mi servono, chi sono io come agente immobiliare dove è scritto chiaramente qual è la mia iscrizione a Rea, un po' quello che abbiamo detto l'altra volta, qual è l'immobile di cui stiamo parlando e soprattutto qual è la valutazione di questo immobile che abbiamo dato, che ho dato come agente immobiliare e che tu hai condiviso per la vendita di questo immobile. Quindi la mia valutazione è 150 mila, l'immobile verrà messo in vendita a 150 mila. Questo non significa che noi prenderemo 150 mila, noi faremo di tutto se la valutazione è congrua per arrivare al più realistico 150 mila possibile. Questo è un po' il quadro generale. La seconda sezione invece parla di quelli che sono i tuoi obblighi come cliente che mi dai l'incarico, che sono quelli che mi devi rendere disponibile l'immobile su richiesta, chiaramente prendiamo gli appuntamenti in tempo. Questa sembra una banalità dirla, ma è capitata nella storia degli agenti immobiliari, che tu mi dai l'incarico e poi non puoi mai farmi vedere la casa. Una volta perché piove, una volta perché c'era, una volta perché sei al mare, una volta perché non hai voglia, quindi fai fatica a vendere la casa senza farla vedere. Lassi pure i virtual tour, il drone, c'è tutto quello che vuoi. Però la casa bisogna necessariamente respirarla come persona fisica. Mi devi dare, come ti dicevo prima, reperire tutti gli incartamenti necessari, che io ho già visionato prima di farti una valutazione. Devo produrmi questa documentazione perché il potenziale cliente o qualunque suo consulente a cui lui si affiancherà mi chiede di verificare certe cose, io devo essere nella posizione di poterglielo fornire. Questo per dare ovviamente un servizio serio e per far vedere che stiamo parlando di cose in regola e alla luce del sole, quindi senza trucchi e senza ingatti. La parte che è la più congrua è, contrariamente a quanti tanto pensano, gli obblighi non che il tuo, ma che ho io, agenti immobiliari. Se io prendo un incarico, io ho degli obblighi, è un rapporto contrattuale. Questi obblighi ne possiamo dire tanti, ma fra questi è che io devo occuparmi di casa tua. Anche questa sembra una banalità, ma non è così, perché un agente immobiliare non può seguire 100 clienti, per intenderci, o ha una struttura che può seguire X clienti oppure deve fare con i clienti che riesce a seguire al meglio, perché vendere una casa non è una passeggiata da ridere. Finché la gente ti chiama, parli, ti diverti anche ai rapporti sociali, poi la devi far vedere, poi la fai rivedere, poi devi trovarli in ufficio, poi parli con loro, poi col consulente, poi col mediatore creditista. Tu devi fare una serie di cose, quando il potenziale cliente, non puoi dire guarda non vengo perché questa settimana sono occupato, quindi devi cercare ovviamente di dare il meglio e puntualmente di te stesso. Se questo incarico è in esclusiva, io mi assumo ulteriori impegni, tipo quello per esempio, anche questo è il più facile da capire, è che tutta la pubblicità inerente al tuo immobile di tutti i portali, cartacei, droni, filmati, che io volessi fare sono a mio carico. Questo lo dico perché da codice civile, una norma del codice civile, se io non dichiaro questa cosa e per mille motivi non ti vendessi casa, potrei chiederti comunque di partecipare alle spese che ho sostenuto per promuovere casa tua. Se io mi assumo questo onere, perché tu ti assumi l'onere di darmi l'esclusiva. Io vorrei aprire una parentesi sull'esclusiva e la non esclusiva. Quindi siamo arrivati al punto di dire che un incarico fatto comunque deve essere scritto, perché cautela te e cautela me, fra persone serie. Poi ci sono sentiti dire, andiamo al bar a discutere, ma è tutto un altro film. Perché in esclusiva è meglio, perché io non solo mi assumo molte più responsabilità, ma perché io l'immobile lo devo gestire al meglio, sono io che guido l'autobus. Non significa che se qualcun altro, qualche collega che magari ha intenzione di collaborare o ha il cliente interessato che vuole andare da lui anziché da me, o per mille motivi incontro a lui e non incontro più a me, io devo avere la possibilità di gestire queste collaborazioni. Quindi devo avere la certezza, dal punto di vista professionale, quindi per la mia faccia e il mio modo di stare al mondo, devo avere tutta l'operatività per dare al mio collega quello che io ho chiesto a te come interlocutore mio diretto. Quindi devo fornire parte della documentazione quando è richiesta, dare risposte al suo cliente, a cui io ovviamente darò tutto l'affiancamento possibile, fino ad arrivare magari alla conclusione dell'affare. Per te cliente è solo una moltiplicazione di opportunità. Per me è una divisione del merito, che significa, da come lo traduco io e l'ho sempre tradotto in questo modo e sostenuto in questo modo, secondo me se io vendo tramite una collaborazione e io faccio moltissime collaborazioni che mi chiedono e che io offro, anche senza che la gente me la chieda, ho molte più opportunità di vendere. Accorcio i tempi, accontento te cliente e non è vero che guadagno la metà, guadagno di più perché guadagno più volte alla metà e quindi lavoro con altri colleghi, se ho bisogno ci si dà una mano ed è secondo me il modo più normale e intelligente con cui si deve operare. Senti Massimo, due domande. Una volta fatto l'incarico in esclusiva, se trovo io un cliente e voglio fare il furbo e vendermela per conto mio, uno cosa succede? Secondo se arriva un'altra agenzia e mi diceva, ma io ti do 100 mila Euro in più di quello che ti ha offerto, come se ne viene fuori, quali sono le penalità, se ci sono, come funziona? Un contratto è un contratto, quindi se uno ha l'idea di fare un contratto e puoi fare il furbo, secondo me è molto più facile non dare il contratto e dici, come in tanti sostengono, guarda questa è casa mia, poi se ti capita vendi. Io per esempio non ci metto neanche 10 minuti di tempo a questo tipo di… a meno che non conosciano i rapporti particolari con quei clienti, parlo in linea generale. Parto dalla tua ultima frase, arriva l'agenzia che ti dà o che ti offre 100 mila Euro. Io te l'avevo già accenato in un'altra trasmissione, l'agenzia non ti dà un liro, non ti dà una lira, perché l'agenzia non ti compra a casa tua, l'agenzia ti può dire che, contrariamente a quello che ti ha detto quel poveretto di Bordolotti, secondo me a casa tua vale 30-40 mila Euro in più, che è un altro paio di money, ed è magari vero, forse ha ragione lui, ti dimostrerà perché te lo dovrà poi dimostrare, perché vale 30 mila Euro in più, perché vuoi l'incarico tu o perché ci sono delle oggettive motivazioni, per cui magari ci si siede tutte e tre e ci si cerca di capire dov'è l'inghippo e dov'è l'errore. Generalmente chi ti offre di più in maniera così veloce e spontanea è perché probabilmente vuole l'incarico. Però se quella persona, chiamiamolo collega fra virgolette, perché tanto collega non è, da come la interpreto io, chi fa una roba del genere, io credo che non sia una persona collaborativa. Io se vedo che ho un mio cliente che mi fa cercare, o mi incarica di cercare un immobile, perché noi possiamo essere incaricati anche al contrario, cioè non di trovare chi compra, ma di trovare chi vende. Quindi mi cerchi un immobile fatto così in quelle zone, perché io non ne ho voglia, non ho tempo, non sono capace, non mi interessa. Bene, io se individuo un immobile, non chiamo il proprietario di quell'immobile, chiamo l'agente immobiliare che tratta con il proprietario di quell'immobile e con lui instauro, tento di instaurare, mi auguro di instaurare una collaborazione, perché se questa collaborazione è una collaborazione seria, ci guadagno io, ci guadagno il mio cliente, ci guadagni tu e ci guadagno le agenzie. Se questo rapporto invece lo si definisse all'italiana da furbetti, non ha un gran senso. Nei contratti, ovviamente come i contratti, esistono delle penali, che devono essere reciproche. Le penali reciproche per un fatto anche di vessatorietà, io non ti posso chiedere una penale e io non pagarti penale. La mia penale, per esempio, è che se tu ed io fissiamo mille lire, mille euro per una penale, faccio delle cifre per far capire, io non faccio il mio miliere, non faccio la pubblicità, non ti porto i clienti, ma non perché non li trovo, perché faccio tante altre cose, perché ho troppi immobili e non mi interessa, io è giusto che paghi una penale, perché io ho assunto un incarico che non posso onorare e ti faccio perdere tempo ed opportunità. D'altra parte, se io ti trovo un acquirente alle condizioni che abbiamo stabilito e tu decidi di non vendere, perché è casa tua, non hai mica il fucile, tu comunque una penale bisogna che la paghi, perché io il mio mestiere l'ho portato a terra. Poi ti dirò che io in 25 anni di penali credo ve ne fate pagare due, ed è successo più volte, e non credo che sia un fatto che è capitato solo a me, che magari durante il percorso capitino episodi nella vita delle persone che cambiano le aspettative o che cambiano gli obiettivi. Per cui quella casa che io volevo mettere in vendita, il lavoro mi hanno sostituito, certe cose non mi hanno andato in porto, ho trovato una donna in Brasile, cioè qualunque cosa ti succeda, è legittimo che tu mi chiami, ma in maniera completamente trasparente, e invece guarda, mi succede questo, per cui io vorrei reccedere dal contratto e non voglio andare avanti per questi motivi. Io non devo sapere i fatti tuoi, ma devi motivarmi il perché. Se le motivazioni sono motivazioni serie, quindi non, voglio dire, drammate, ma serie, io non ho mai fatto pagare, e ne credo nessun agente immobiliare ti faccia pagare la mia azione, andiamo a mangiare magari pizza e birro, prendiamo il caffè, ma deve essere serio. Se tu invece, come è successo tante volte, e l'abbiamo visto nel mercato anche tanti altri colleghi, io grazie a Dio ho avuto poche esperienze così, dove tu aspetti che scada l'incarico, arriva il cliente furbo che ti ho portato io, che dice tanto fra un mese o due gli scarichi, vieni dopo per risparmiare l'agenzia, io ho un anno di tempo, perché lo dice il codice civile, sottolino una cosa, il nostro mestiere è l'unico che è gestito, controllato e diretto dalle norme del codice civile, quindi non è una cosa inventata al bar, e se tu vendi l'immobile al signor X, che io ti ho portato e dimostro che te l'ho portato io, io dopo un anno, dopo il tuo rogito da furbo, con il mio cliente che mi scavavi, ho un anno di tempo per mandarti la fattura, e tu la fattura la paghi, sia tu che lui, se il cliente te l'ho portato io. Quindi non solo è sciocco, è una furbata da poco, poi non sa quanti ce n'è, ma io mi auguro, e parto dal concetto, che se mi propongo come tuo partner in questa avventura, e tu abbia tutto l'interesse a fare le cose serie, poi, per l'amore di Dio, di stupiti ce n'è da tutte le parti, da una parte da l'altra, però diamo per scontato che la maggior parte della gente siano persone consenzienti e normali. Senti Massimo, la pubblicità che tu come agente fai, devi farla vedere al tuo cliente, glielo devi dire, devi chiedere il permesso a lui, come funziona? Allora, intanto quando tu fai una pubblicità, siccome oggi la pubblicità è una serie di fotografie ben fatte magari da qualcuno che le foto le sa fare, magari la presenza di uno staging che ti, diciamo, prepara la tua abitazione per farla vedere al meglio, non per truccarla, per farla vedere al meglio, perché se io vengo a casa tua e hai tutti i santini dei morti sul letto, non è un gran bel vedere, cioè tutte queste piccole foto, magari un'imbiancatura, che dicono sempre a tutti, quando cambi la panda di 42 anni, prima di farla vedere, che vale 350 lire, la fai la fare, perché magari prendi una lira in più. Ecco, vendi una carica che costa centinaia di mila di euro, falla almeno imbiancare, questa è un po' l'idea, ma lì dipende ovviamente dal modo in cui il tuo cliente vuole stare al mondo, e quindi è un'idea, ma non è certamente obbligatorio. Il cliente ovviamente ti deve dare il consenso per filmare, fare vedere le foto di casa tua, perché io faccio vedere delle cose intime, di private, di roba tua, quindi questo è ovvio. Poi la parola deve non esiste né da una parte né dall'altra, io faccio la pubblicità e ho il piacere di farti vedere la pubblicità, non perché voglio pavoneggiarmi, ma perché ti faccio vedere che su quel portale o su quell'altro, come faccio la scheda, come viene sul nostro sito o il sito del nostro gruppo, tu ti rendi conto di come io sto gestendo e sviluppando il tuo lavoro per te, e credo che sia conveniente per tutti e due. Poi è chiaro che è capitato che il cliente ti dice, e qui non è una battuta, io l'ho avuto una volta nella vita, in maniera simpaticissima, perché siamo ancora in ottimi rapporti con questo non cliente, dove mi incarica per fare certe cose e mi dice, il prezzo è questo, le foto le faccio io, la descrizione dell'immobile le faccio io e venite da me l'uno di pomeriggio, gli ho detto, falla te, fai prima falla te, perché lo devo fare io se sai fare tutto tu? Falla tu, è inutile fare cose di questo, un contratto però è un contratto, non è una chiacchierata, è una buttata lì, è un impegno formale che le parti reciprocamente si prendono. Bene, senti, ce la facciamo perché volevo parlare anche della relazione tecnica integrata, in cinque minuti scarsi ce la facciamo? Sì, sì, diciamo di sì, nel senso che diamo un'idea. Nel carico, uno degli obblighi che hai tu è di produrre, se non ce l'hai, l'attestato di prestazione energetica, senza il quale io non posso fare pubblicità, perché va indicato nella pubblicità, e la relazione tecnica integrata, che sono due anni, tre anni, che è obbligatorio in Emilia Romagna, i notai non rogitano se tu non hai questa relazione tecnica. Questa relazione tecnica che cos'è? Non è altro che una garanzia per entrambe le parti, non solo per chi compra, ma anche per chi vende, che a rogito dichiara una serie di cose che non ha idea di che cosa siano, e quindi estremamente pericolose se dichiara in totale buona fede, ma dichiara falso, un tecnico al quale tu paghi un servizio, questo tecnico viene a vedere casa tua, verifica che la planimetria e lo stato di fatto siano coerenti, quindi siano esattamente corrispondenti, verifica lo stato dell'impianto elettrico, dell'abitabilità, fa tutte le sue ricerche e verifica anche quello che è il grande maccherone di oggi, cioè che è la triplice conformità, cioè che quello che vede, quello che è in catastro è anche uguale a quello che ha depositato in comune, che Dio ci salvi perché soprattutto a Bologna questo direi che è abbastanza difficile nelle case vecchie, ma niente di grave, l'importante è che lui riesca a fare tutto, messa tutto a posto, tu pensa che le banche non rogitano, ovviamente se non c'è una relazione interna, non basta il perito, ci vuole questa relazione interna perché garantisce tutti, quindi un tecnico sotto la sua responsabilità civile penale ed è pagato dal venditore, dichiara da un fascicolo dicendo questa casa e dichiara quali sono gli aspetti urbanistici e gli aspetti diciamo normali della casa per la vendita di quella casa, quindi gli impianti, come messo, la provenienza, l'ape, fa tutto questo quadro qua. Questa è una garanzia, ti ripeto perché è importantissimo, molto evidente per chi compra, perché sa che c'è qualcuno che rischia la galera, si dice delle cretinate perché c'è il penale, la galera si fa perdere, qui in Italia c'è nessuno in galera però rischia il penale, e dall'altra come venditore è molto più importante della spesa che ha fatto, cioè è un investimento indispensabile per dormire la notte, perché durante il rogito il notario ti fa dichiarare che tu dichiari che la casa è in regola, secondo le leggi urbanistici, tu non hai idea di che cosa dici, avendo qualcuno che te l'ha verificato e dichiarato per te, tu puoi dormire suoni tranquilli, se ci fossero dei problemi tu ti rifai su di lui, non è che tu scappi, ma parliamo sempre di buona fede e di problemi venali, non che la casa sia abusiva, la relazione tecnica è finta, la relazione tecnica è questa roba qua, è una bestia molto particolare che allunga in un primo periodo il tempo per la messa in vendita dell'immobile, perché sarebbe saggio, prima di vendere l'immobile, avere questa documentazione. Siccome questa è però molto utopistica, molto ottimistica, l'importante è che tu ce l'abbia almeno prima di fare un preliminare, intendo che la tua proposta di acquisto venga sottoscritta e firmata dalle parti, perché se ce l'hai dopo e la gente si è già messa a cordo, perché ricordo che una proposta di acquisto sottoscritta e firmata è un preliminare, non è un gioco anche quello del monopoli, è un preliminare, un compromesso. Se tu hai il tecnico che dopo verifica e trova un problema, la gente va a litigare, otto volte su dieci si discute. Se invece tu lo sai prima, magari allunghi i tempi per metterlo a posto, oppure non fai la proposta, perché questo poi è il modo di lavorare per non avere problemi. Comunque è fondamentale questa cosa, noi siamo giù. È obbligatorio. Obbligatorio è fondamentale. Preciso, obbligatorio no, perché la legge non lo prevede, però in Emilia Romagna, se vai per esempio in Veneto, a occhio bello, il notaio non ti chiede la relazione tecnica. A Bologna, se non hai l'Emilia Romagna, la relazione tecnica il notaio non rogita, quindi non è un obbligo di legge, ma se vuoi rogitare l'Emilia Romagna, lo fai. Il succo che puoi interpretarla come vuoi, ed è un atto richiesto e voluto dalle associazioni di categoria, proprio per dare trasparenza e garanzia alle parti. Ma l'abbiamo in Emilia Romagna, credo che ci sia in Toscana, cioè c'è in Toscana, ma per esempio non c'è in Lombardia, non credo ci sia in Lazio, quindi siamo molto federali in quello. E via. E te ripeto, da Bologna tu vai a occhio bello, fai 20 km e non ti chiede, questo è il concetto. A occhio bello posso vendere la vista piaciuta? No, no, non è quello che dico, vuoi dire, no. Però ti fanno ovviamente tutti i controlli del mondo. Certo, sì, sì, però... In quanto documento formale, a Bologna se non ce l'hai non rogiti Emilia Romagna. Fuori dall'Emilia Romagna, nel Veneto per esempio, non te la chiedono, questo è il concetto. Poi se la fai, meglio, ma non è una richiesta insita, è un buon suggerimento, lui lo devi avere. Va bene. Quindi nel momento in cui tu mi incarichi di vendere casa tua, devi darmi immediatamente, o nel giro di poco, l'attestato di prestazione per consentirmi di pubblicizzare casa tua con l'attestato di prestazione esatto. Poi è chiaro che siccome l'altra ha bisogno di tempo, incaricherai quanto prima, se non immediatamente, un tecnico per andare a far l'accesso agli atti, verificare, eccetera. Nel frattempo io mi muovo. Poi può succedere che io magari sono fortunato, bravo, capita il cliente giusto che lo cerca, e riuscissi a trovare, riesco a trovare, un cliente potenziale per la tua casa, prima della relazione tecnica, diciamo che il buonsenso e la strategia per stare bene al mondo suggerirebbe di attendere che il tecnico ti dica qua è tutto a posto, qui c'è un problema, lo mettiamo a posto in 20 giorni. Oppure non si mette a posto, perché tu lo impari dopo. Chiarissimo, prima di chiudere salutiamo il nostro sponsor, la Next Design dell'amico Antonio Vucino, che si trova a Funo. Se avete bisogno di fare qualche opera, qualche ristrutturazione, contattate o me o Massimo, o addirittura potete andare sul sito della Next Design Group tranquillamente. Vi saluto, grazie Massimo, e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a voi e a tutti, alla prossima. La casa in diretta, la parola agli esperti. Tutto sulla casa, la casa in diretta. Un punto d'incontro per chiarire e risolvere qualunque problematica immobiliare. Ogni settimana a confronto, ascoltatori, professionisti del settore e rappresentanti di categoria.